Siamo andati al centro federale di Verona a gareggiare, nella piscina intitolata da Alberto Castagnetti. Quindi, senza perdere altro tempo, borsa, costumone, altro costumone, costume, cuffia, occhialini e via, tutto dentro la borsa. E si parte! Le gare in programma in questo primo giorno di gare, ovvero la fanno dei troppi, sono i 50 litri, la 100 lana e la 100 stile, il 50 dorso, la 100 stile e la 100 litri. E io sono giusta in acqua solo per i 50 litri. Saluta a piedi, solo a piedi. Se alla fine del video ci vi lascio i 50 litri. Quindi, quasi! E io sono i 50 litri. Grazie mille per il supporto e noi ci vediamo alla prossima nuotata. Ciao! 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 Grazie a tutti.